Alcune brevi comunicazioni di servizio. Allora, io devo assolutamente ringraziarvi tutti quanti, ovvero tutte le tantissime persone che stanno aderendo con entusiasmo alla nostra proposta culturale, mi piace definirla così. E veramente, ho notato un entusiasmo che sinceramente non mi aspettavo, quindi grazie sincero a tutti. Ho notato anche un vostro entusiastico slancio nell'inviarmi tantissime mail private, messaggi su Facebook, eccetera, per avere consigli personali e diretti su singoli casi relativi alle materie che io tratto. Io spero che a qualcuno ho risposto, ma adesso veramente è aumentato in modo incredibile il numero di questi messaggi, decine e decine al giorno e sinceramente spero capiate che io non posso veramente rispondere a tutti. Non ho il tempo fisico per farlo, anche perché a questa attività di youtuber ovviamente si affianca la mia attività maestra principale, che è quella di produttore e gestore di una casa discografica abbastanza importante. Quindi veramente non ce la faccio. A questo proposito però, con i miei collaboratori, stiamo pensando a qualche soluzione, diciamo così, di agile compromesso. Prossimamente attiveremo la possibilità di abbonarvi al nostro canale, oltre che di iscrivervi a una modicissima cifra mensile che verrà gestita direttamente da YouTube, come in tutti gli altri casi di abbonamento e per gli abbonati offriremo ovviamente dei contenuti dedicati in più. Primo di questi contenuti saranno una serie di webinar, come si usa definirli oggi, ovvero una serie di dirette specifiche su determinati temi, con la chat aperta e all'interno di queste dirette io sarò disponibile a rispondere alle domande che mi verranno proposte via via. E questo sarà uno dei contenuti che noi offriremo in più agli abbonati, oltre ad altri ovviamente che stiamo ancora studiando, ipotizzando, organizzando e di cui quindi non vi anticipo nulla. Mi premeva fare questo brevissimo video proprio per non lasciare le domande senza alcuna risposta e quindi appunto approfitto di questo spazio per dare un'unica risposta a tutti, rimandandovi appunto a questi prossimi incontri online dove cercherò di esaudire tutte le vostre richieste, laddove sia ovviamente nella mia possibilità e nella mia conoscenza, perché come avrete immaginato io non sono un guru, non sono un tutologo, non conosco ogni risposta, sono piuttosto bravo per quanto riguarda il mio ambito specifico che è la registrazione sonora, ma ad esempio nell'ambito dell'hi-fi ovviamente conosco i grandi principi, conosco i grandi sistemi, conosco molte macchine, ma ovviamente non le conosco tutte e voi sapete bene che l'offerta merceologica nel settore hi-fi è pressoché sterminata, quindi può essere benissimo che se voi mi chiedete il parere su un apparecchio specifico che io non conosco, non possa che dirvi mi dispiace ma non lo conosco. Lo so, risulta strano perché i cosiddetti esperti, soprattutto del web, sembra che sappiano tutto di tutti, beh io evidentemente non sono abbastanza esperto, non appartengo a quella categoria e non so tutto di tutto, conosco solo alcune cose. Grazie ancora, veramente grazie per la vostra adesione, per la vostra partecipazione, per il vostro entusiasmo che è un po' la linfa e il motore di tutti questi nostri video, di queste nostre proposte.